buongiorno benvenuti cardio combat è l'allenamento di oggi 30 minuti di allenamento funzionale con movimenti ispirati alle atti marziali interval training quindi momenti di lavoro e momenti di recupero attenuiamo fase di lavoro a fase di pausa quindi ogni 30 secondi ci sarà o il cambio di esercizio o la pausa la velocità di esecuzione sei tu a sceglierla più lento più veloce fermati di più se serve fai pausa quando vuoi usa le opzioni ti fornirò opzioni più o meno intense per calibrare l'allenamento in base al tuo livello di fitness ok giusto come un memorandum quando ti chiederò un jab sarà un pugno e un cross pugno diritti al viso quando ti chiederò una ginocchiata o un calcio frontale soprattutto cura sempre il richiamo delle gambe per lavorare in sicurezza per il resto godi dire allenamento dai il tuo 100 per cento fanno più e più volte durante le prossime settimane e se puoi una foto un video un selfie taggami fammi sapere com'è andata dammi un feedback del tuo allenamento buona lezione ok spazio libero intorno a voi cominciamo il nostro riscaldamento corri corri sul posto 30 secondi danno un posto come un altro liberoами tra la pistola not al dei tempi, milan di volta a scendere il tempo, più feroce o più lento, immaginiamo che le stimole in fuori con i glutei le stimole indietro in basso, atteniamo il squat, aggiungiamo il plank, si chiama battensi, 30 secondi, fastidio, squat, plank, squat e le mani sul con le spalle del plank, e dominiamo i forti, buon opzione di casicino, cammina con i piedi, invece di saltare avanti e dietro, arriva la box, una gamba avanti, G-G-G-Combio, G-G-Combio, G-G-Combio, gioco di gambe, jumping jack, ok, atli e chiudi, andi atli, squat anch'io, quando chiudi, riuscite a non usare anche, guarda più piano se vuoi, rallenta l'accelera, box, chain chain cross, cambio, dovresti sentire il cuore di sale, ok, la fanno piano sinta, ok, mettiamo solo le riscaldamento, estilato, ok, tornaci il cuore, affondi dietro, 1, torna, passi in lunghi, 90 gradi alle sinopoli, entrando a me, lascia avanti i palazzi a terra, passiamo agli riscaldamento fisici del campo, guarda, tornano gli atti marziali, una sinocchiata, un calcio prontale, stessa gamba, ginocchio, calcio, cambio, ginocchio, calcio, distendi, tira, colpisci, ritieni la gamba, e continuati forti, per proteggere la schiena, sempre, ottimo, di nuovo, già avviciniamo, lì, arriva, affonda, gambe, cuore, stiamo dietro chiuso e le braccia in barri, atteggiamento proprio lì, secondo giro, giro chiara, taccia, puntata, vogliamo attenere il riscaldamento, puntata, ہ, giro罵了 qui atteggiando la, la donna del gruntio non sarco, 譏asure atteggiando la gamba, biomali, sta atteggiando la gamba, e, Sì di buona forza Guarda Wow Bravi Respira Tostate 5 minuti di mezzo E mi scappa dentro Prima e cercate Ok Ottimo inizio Respira Perché ora comincia l'allenamento Ora comincia quello vero Ok così un vicino Sì per sempre Tappuriamo le gambe Tappuriamo la parte superiore Tappuriamo le gambe Tappuriamo la parte superiore Per sempre Spira Iniziata Per sempre Sì 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 Sì, 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 sì. se siete ben accorgiati a ferma o cieli se siete venuti le mani avanti le mani pianti o le mani vieni non affacciare le mani dopo di che uno squat e una fondo indietro 11 minuti di lavoro non so squat a fondo squat a fondo squat a fondo squat prova a scendere un po' di più nell'affondo urma bene con la postiera ah e la fatica nelle gambe cresce fila subito e giù prova a non distendere mai completamente le gambe prossimo un affondo dietro una cinchiata taglio gamba via ricorda di fidare le mani al fianco e una maggiore attivazione degli addominali e spingile anche avanti ah ok spingi 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 Ammi, guarda così la mia braccia, che tu rigoggi anche gli obiettivi, wow, 30 secondi, buon po' di grazia, squat, doppia abilizzazione, poi sali, uno, due, sali, la postura, ti guarda sempre la postura, perché ci sei, dai principi di glideri, se diciamo le fiamme, stop, 30 secondi di recupero, stesso lavoro per la parte superiore, vestia, scendi le gambe, pronti ad andare giù, iniziamo dalla misoglia, iniziamo dalla legna, mani a terra, mani sotto le spalle, via, via, via il ginocchio su cuori, ora, schiena lunga, corona forte, abbrinare i glutei, mani sotto le spalle, o leggermente più alte, pronti per il push up, che stanno arrivando, opzione, togge le ginocchio se vuoi, o no, si va, push up, 30 secondi, ricorda, scegli il ritmo, scegli l'opzione, ma scegli sempre con il petto, non in basso della linea del gomito, sovraccarica le spalle, prima di esplodere nella box, i piedi, una gamba avanti, applicate, movimentate, dal basso verso lato, colpisci ripetutamente sotto il mento, tieni l'altro braccio in labbra, via, fai bruciare le spalle, fai bruciare la spalla, forza, dominare, scolo qui, scendi, 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 quasi puoi farne in 30 secondi, stesso braccio, pensare, scendi, 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 gesto werde, Extension è il piede da lawhead, ai, 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 scendi, faccia da Mussari. non ti ascolto di rilassare le spalle botte a taglia spalle a due lani schiena dritta mani abbitate a terra per tirare il tetto e scende e poi fareci macchi al tetto via chiudimi stop 30 secondi di pausa e torniamo alle gambe stessa scoglia di prima c'è l'opzione di alzare la spicciola dell'intenzione se vuoi la tua scelta squat chiuso medico e pronunciare ai vostri posti gambe un po' più dalle delante via respira calma il cuore e porta ossigeno alle gambe spingi fuori le ginocchia e spingi indietro gli uteri squat e a fondo stanno di tornare squat e a fondo squat a fondo squat a fondo 30 secondi ehi vuoi alzare la spicciola dell'intenzità salta ad ogni squat e a fondo spingi indietro giab 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 o resta qui se ne hai bisogno torna su ogni volta e respira e prova a non fermarti a fondo ginocchio alziamo la sticella se vuoi salta per me la ginocchia spingi indietro e la ginocchia e la ginocchia e la ginocchia genera la posizione sulla gamba ruira il piede e spingi alto calcio e la ginocchia e la ginocchia vuoi aumentare anche questo oh benvenuto saltami a fondo oh resta qui ah spingi senza fiato passi ora è doppio squat ultimi 30 secondi va un po' di più salta ora sta qui scegli o squat singolo se hai bisogno di maggiore di però stop espira pausa parte superiore venti secondi a via ok spingiamo per cominciare tutti giù via attiva le mani prendi i palmi a terra e sento i divideri ricordiamo i ginocchi a sguardo addome nude cosce forti pronti push up poi ti puoi fare in 30 secondi sulla punta dei piedi prima di eventualmente poggiare le ginocchia poggiare le ginocchia è l'opzione trova a non fermarti se vuoi o usa la pausa l'altra gamba se stiamo andando il necessario l'altra gamba rispetto a prima avanti attacca attacca e l'altro lato dopo una ora attacca senti il coinvolgimento degli obbligi sui ad ogni intuazione è così che spingi i fianchi è così che scolpici gli abdominali forza ragazzi se stessi gli vedi vai chair chair cross veloce l'indiciamo del braccio muscoli di spinta muscoli di migrazione come passando metà come 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 Calvino Yutini Yutini Parancoya Esso Wow Super serie Messe nel tratto Recupera Uh Bravi Ok Wow Odice in giù Vediamo Allora Passiamo al lavoro funzionale Andiamo a terra Usa il tappellino se vuoi Ora asciuta mano Ora si è tenuta Gambe larghi un po' più di bianche Uno squat Cammina con le mani Torna In piedi Trezza secondi Squat Cammina Great Cammina Squat Preparare il corpo Ora Corra Premi O che faccio Quella Che Che Un altro Na E Che Lata Che Di spira lato, ruota ruota il tuo corpo e poi c'è il calore a terra quando ruota calore e tango del piede a terra ora pancia a terra abis e braccia, più o meno in pezzo piedi da sguardo a terra a terra posizione mani a terra sotto low push up stesso lato braccia e gamba opposta stesso lato posizione ginocchio a terra spalle anche parallelo a terra non più stesso lato pancia a terra fatti le gambe solleva le cosci guarda gambe tese gambe tese solleva 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 fatti le gambe stai muotando via 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 faccia pausa stop recupero le gambe stesso lato spalle fatti le gambe spalle 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 gambe larga spalle post spalle 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 1 shot, rotazione 1 shot, ruota anche qui opzione di pergiare il ginacchio se vuole ruota, mantenendo il ginacchio a terra mancia a terra, braccia di fuori, sollevo il petto animazione, mania a terra ricorda di far vedere le scapole dietro chiuse incontriamo le muscoli da schiena, la piccola delle scapole e le estensioni della propria ok? torna le muscoli di stisa buccio braccia dando apposta stai lavorando dall'altro lato, stessa prima ok, catene muscolari catena crociata anteriore e posteriore per non ruotare il corpo paralelo a terra giù, batti le gambe gambe completamente tese forse luce in schiena male giù, ordinati con una pausa stop ok bene bene e finta come il cuore è sceso un attimo ma il lavoro è stato più centrato a livello muscolare ok perché il prossimo step l'ultimo è di tornare sul cuore restano i tre minuti e mezzo tre minuti e mezzo due segni identiche massimo scorse ok recupera la massima intensità la aggiungiamo con il barcus saltando o no a te la scelta iniziamo gambe larghe 30 secondi per tirare tutti ripi davanti a te zona carica alle spalle per ruotare il busto e dare alle navi addominali a lino rina buttis e ginocchiata alterna le gambe spalle aumenta veloce da finis cinocchio hai 30 secondi per farle più che fuori opzione cammina con i piedi o salta con me o salta con me c'era 30 secondi al massimo non so che puoi farlo non so che puoi farlo via con me allunghi richiama esplori 4 4 4 5 stop 30 secondi sto facendo di nuovo l'ultima volta braccia braccia al fondo no quanta secondi alla fine no 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 c'è c'è łaaaa le spalle senza i benefici alle calorie che stai bussando alle toni cali che stai allenando ora come stai arrivando dopo Attenso la scelta 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 Favus Continua Usa opzione ce boy Di ultimi Yeah 30 secondi con me Senza piano We put this up and I don't think he's having that watch Use it in Stop Wow Bravi Bravi in tutti Equipera Pollice in giù 30 secondi Andiamo a terra Andiamo a terra I ultimi in 2 minuti e mezzo Andiamo a terra Oh Senza piano Andiamo a terra Più in 30 secondi Crunch C'è il cross A per Via Pio, crash, c'è il cross. Solano le spalle, ma dal costo delle alte, ma mantieni la schiena a terra. Per farlo, stringi gli abdominali e risulta l'obelico per avvicinare la schiena verso il palimento. Cambio, calcio verso l'alto. Prega, ci stendi, piega, forza e torna. Calcio verso il soffitto, provando a sollevare anche solo un po' i glutei da terra. Presta a terra, spalla a terra. E di nuovo, crouch. Calcio. Certi gli abdominali che bruciano. Ad ogni jettros, espira. E provo a stare nelle due centiletro in più che ha un caldo solo. Calci. Controlla la discesa. Stavolta la parte più bassa, non fermati. ultimo. Ultimo di 30 secondi, over. Riesci le nocchie, bolliti sulle spalle. Prova senza cilocchia. E prova avanti e indietro. Stringi dall'olio indietro Foto di spalle avanti Di ultimi Non ancora, non ancora Stora Bravi Ottimo Allenamento Ottimo allenamento ragazzi Gravi tutti Oh è stata una gran bella lezione Un ottimo allenamento Concludi con dello stretching Spendi i prossimi 10 minuti ad allungare i muscoli O procedi con altri 30 minuti di allenamento Abbassando l'intensità e cambiando genere È stato un piacere anche oggi Fatemi sapere come va nei commenti Mettete like Datemi un feedback Selfie E taggate Io spero che questa sia Se non l'ultima Una delle ultime volte In cui ci vediamo Attraverso lo schermo Perché davvero Davvero Non vedo l'ora di ripetervi A tutti quanti Di persona Un abbraccio forte Ancora per un po' Io resto a casa Ciao 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 Grazie.